Bene, signore. Sono passate 48 ore da quando Blaskowicz è tornato dal castle Wolfenstein. Questo ci ha consentito di avere il tempo per esaminare quanto ha scoperto e i risultati sono a dir poco spallorditoni. Usare un eufemismo, signore. La domanda che vi pongo è questa. Cosa hanno davvero in mente questi nazisti? Beh, signore, francamente non credo che abbiamo le informazioni necessarie a trovare la risposta. Davvero? Non fraintendete, abbiamo scoperto molto sulle loro potenzialità e già questo basta a farmi venire i briti. Sì, sì. Sì, Jack? Ci sono due cose che mi inquietano. Esattamente, cos'è questo cavaliere nero al quale sembrano così interessati? I risultati della nostra ricerca? Niente, vuoto assoluto. Di sicuro c'è qualcosa di più di un delirante desiderio di risvegliare i te... Qual è la seconda cosa, Jack? La seconda cosa è Deathshed. Abbiamo di fronte a noi l'elemento più pericoloso di tutto il Terzo Reich. E non siamo ancora in grado di capire cosa c'entri con tutto questo. Deathshed? Le nostre fonti non lo segnalavano presso la base missilistica segreta a Catamarandi. Proprio così. In effetti al momento il nostro uomo, Blaskovitz, è diretto proprio lì. Davvero? Sì. A ordine di infiltrarsi e sabotare l'intero complesso delle armi di... Con un po' di fortuna potrebbe mettere le mani sull'ultimo modello del Covr. Il razzo sperimentale Covr? Proprio qui. Molto interessante, signore. Allora, cosa ne pensi, Jack, del fatto che ho detto al nostro uomo di prestare la massima attenzione a qualsiasi indizio legato a progetti riguardanti il paranormal? Penso che si tratti di un'ottima inizio legato. Grazie.